ciao amici e benvenuti al nostro nuovo video oggi vorremmo vedere il nostro pollaio e la raccolta delle uova vicino a me ho una piccola assistente e eccola qua bene aurora ci accompagnerai all'ingresso del pollaio e raccoglierai tu le uova perché sei un'esperta di galline vero da quando abbiamo il pollaio tutto l'organico produciamo in casa lo diamo alle galline ed ecco qua il nostro bel gallo gallo cedrone quante uova ci sono nel pollaio cinque e allora raccogliamole dai vedete ci sono pure gli ovetti blu esistono ma questi mi sembrano normali le uova le galline le fanno solo qua papà o anche da un'altra parte? da altre parti anche da altre parti? quante uova? tre! benissimo quindi totale otto uova oggi un bel passaggio segreto per le galline? si ciao ragazzi abbiamo visto la nostra fattoria oggi abbiamo raccogliato uova ciao ciao